In questo video ti spiego i test che gli uomini fanno alle donne. Prima però iscriviti a tutti i miei canali YouTube. Massimo Tramasco, crescita personale con Massimo Tramasco, felicità benessere con Massimo Tramasco, amore autostima, attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. Cara Margachona, inoltre ti ricordo che sui canali ti puoi anche abbonare. Ogni canale ha dei suoi livelli di abbonamento. Vagli a vedere! Tastina abbonati, vicino a tastina iscriviti nella home page se non lo vedi con l'app del cellulare o con il computer. E veniamo al tema, come gli uomini ti testano. Questo è un passaggio importante perché un uomo, soprattutto quando si sente sicuro di sé, quando in qualche modo intuisce che tu possa piacergli, cara Margachona, inizia a testarti. E questi test, questi shit test, test del cazzo praticamente, beh, potranno farti innamorare se tu accetti il test, potranno destrutturarti, insomma, potranno in qualche modo, diciamo, renderti più docile, tra virgolette. E questo è importante, quindi che tu li riconosca e sappia come agire. Perché? Altrimenti rischi di prendertelo in quel posto, ovviamente. Cara Margachona. E allora vediamo quali sono questi test. Allora, il primo è quello di testare se sei mignotto o meno. Questo è un qualcosa che fanno. Eh, vabbè, ma tu avrai tanti uomini, ma fai così con tutti. Se ci stai, ti dicono se sei, ma tu fai così con tutti. Ecco, questo è un modo per testare se sei mignotta. O perlomeno per squalificarti, per farti passare da mignotta. Ovviamente non lo fa il, come dire, lo zerbino. Qui parliamo di maschi di qualità, parliamo di maschi alfa, che hanno, come dire, la capacità di testing, perché hanno di fatto tante donne, non sono dei morti di pippe come quelli che frequenti di solito. Questi hanno, diciamo, gli attributi. Ecco, quindi ti iniziano a dare, ma fai così con tutti, ma tu chissà quanti uomini vedi. Insomma, quanti uomini ti fai. Magari utilizzano anche, chissà quanti la dai tu contemporaneamente. È ovvio che poi vediamo cosa fare. Poi un altro test che fanno è quello di vedere se, diciamo, è qualche punto debole. Ma che stai dicendo? Ma hai bevuto? Ma scusa, ma tu bevi? Ma ti droghi? Ma bevi? Vogliono vedere se, appunto, come reagisce a queste cose qua, no? Perché cercano, ovviamente, di metterti in difficoltà. Un'altra cosa che fanno, ti chiedono, è certo che tu, per dire, hai problemi di soldi, non hai soldi, fai un lavoro di merda. Insomma, cercano in qualche modo di screditare, no? Di screditare la tua parte, la tua parte forte. Ti fanno passare, cercano di farti passare come una scorcona. Quindi questo è importante, quindi per una donna, veramente è importante acquisire la sua indipendenza. Però, altrimenti, rischi di passare come un zoccolone, diciamo, pieno di problemi. Perché se ti appiccicano le etichette, tu non te la sai togliere di dosso in tempo zero, è evidente che verrai etichettata come puttanone, mignotone, morta di fame. E poi un altro test che utilizzano, diciamo, è quello dell'età. Ma tu quanti anni hai? Sei meno pausa, per dire, no? Cioè, vanno a testare quello che è la tua paura dell'invecchiare. Ovviamente, quando ti dicono, ti rispondono, come risponde? Beh, quando ti dicono, ma tu fai così con tutti, beh, tu devi finire per intanto evitare di dire, no, ma figurati, ma cosa dici? Ma io sono una persona seria, ma per chi mi hai preso? Questa è la risposta sbagliata. Devi amplificare. Beh, certo, ho perso il conto di quanti uomini ho avuto. Anzi, tu come ti chiami? Quindi, utilizzare l'ironia. L'ironia. Una regola fondamentale per, diciamo, uscire fuori da questi shit test è dare risposte assurde. Dare, oppure, anche risposte ironiche, risposte divertenti. L'importante è che lo fai senza dimostrare di essere agitata, senza dimostrare di essere nervosa, perché questo porterà l'acqua al suo mulino, diciamo, e ti farà passare come una, diciamo, insicura. Inoltre, se cercherai di giustificarti, di squalificarti, no, ma io sono una persona seria, ma smettila, ma perché dici questo? Ma va, oppure, io non bevo, io non ce la faccio a bere, non sono mica per chi qua, no, io sono contrario. Insomma, tutto questo, infervorirti nello spingere, nel essere quasi risentito da questa cosa, ti farà passare per una donna che ha poco, diciamo, ti farà passare per una donna che è di poco valore, fondamentalmente. Purtroppo la cosa è questa, per una donna, è perché una donna che sta sulle difensive, quindi una donna che, insomma, come dire, un po' ha la coda di paglia, no? Perché chi si difende, chi si difende troppo, passa poi per una o per uno, ovviamente, che ha qualcosa da nascondere. quindi devi iniziare a usare molto l'ironia e, ad esempio, l'amplificazione, che è la cosa migliore. E poi, diciamo, fargli anche tu dei shit test, ribaltagli lì. Ah, ho visto che, se lui ha, non so, intuito che ha una vecchia carretta, e tu inizi a dire, beh, certo che è un uomo di qualità, beh, ha una bella macchina, ho visto il tuo amico, per dire, no? Cioè, comunque, cerca di andare a fare scarpetta su quelli che puoi riconoscere che possono essere i suoi punti deboli, perché questo ti consentirà di ottenere grandi risultati. Bene, ma devi impegnarti, eh, non devi farlo, diciamo, così, ampasane, perché ricordati che è la penalizzazione quella che seduce, non la gratificazione. Devi imparare, però, a servire talvolta la penalizzazione su un piatto gratificante, che può essere, ad esempio, anche semplicemente l'ironia. L'ironia non guasta mai ed è sempre molto utile. Bene, cara Malgascona, se questo video ti è piaciuto, condividilo con i tuoi amici e ti ricordo di iscriverti al mio canale YouTube Crescita Personale con Massimo Taramasco e abbonarti anche al canale.